Musica Grazie a tutti. 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 Inoltre, chiediamo di stabilire, di istituire l'anagrafe delle diritte scolastiche che la gara del mini ci ha promesso per due anni e non l'ha ancora fatta. L'anagrafe serve per stabilire quale scuole vanno ricostruite per prime, quale hanno bisogno di essere ammoternate e quale sono a rischio di caduta. Grazie a tutti. Questa è un'altra, quale è un'altra, quale sono state le norme antisismiche. Nella stessa nostra, come possiamo dire noi tutti i giorni che ci andiamo tutte le mattine nelle nostre scuole, le strutture sono fatiscenti, hanno bisogno di ristrutturazione. Noi stiamo di ristrutturazione, noi stiamo di ristrutturazione, noi stiamo di ristrutturazione, noi stiamo lì tutti i giorni con il rischio che si crollino in testa. Per non parlare delle barriere architettoniche che non danno il diritto alle persone a parte della disabilità. Allà, un'altra, un'altra! Grazie.